Un'offerta formativa che oltre a proporre i corsi consolidati come scienze forestali e ambientali, infermieristica, diritto delle amministrazioni, imprese pubbliche e private e scienze dei servizi giuridici, vuole proporre nuovi percorsi didattici sia per formare i tecnici dal domani in campo ambientale, sanitario e giuridico, ma anche specializzare gli studenti che iniziano a nuore il loro percorso di studi, attraendone anche dal resto d'Italia e dal bacino del Mediterraneo. Il Consorzio Universitario della Sardegna Centrale non lascia, ma rilancia questa nella convinzione che in questi vent'anni di strada ne abbia fatta tanta, ma ne possa ancora percorrere ancora, diventando quel volano di sviluppo per tutto il territorio. Stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sede di Via Salaris, alla presenza dei rappresentanti delle università di Sassari e Cagliari e delle facoltà che hanno corsi gemmati a Nuoro, è stata presentata l'offerta formativa dei prossimi anni. Gli onori di casa sono stati fatti da Fabrizio Mureddu, commissario del Consorzio. All'incontro tra gli altri sono intervenuti il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e l'amministratore straordinario della provincia Alessandra Pistis. La regione è stata rappresentata da Giuseppe De Sena, capo di gabinetto dell'assessorato regionale alla cultura. Presente una folta delegazione di docenti che ognuno nel proprio ambito ha illustrato la situazione attuale dei corsi e lo sviluppo che gli si vuole dare nei prossimi anni. Tra le novità, l'intesa con l'Agenzia Foresters, per interscambi sul piano della ricerca, molto importante è la specializzazione, prima in Italia, in protezione civile che porterà alla formazione di tecnici in grado di gestire le emergenze non solo in campo ambientale ma anche sanitario. Confermati i corsi tradizionali, mentre in programma la Summer School sui diritti umani in ambito europeo che avrà la partecipazione di corsisti stranieri. Attivata la prima edizione della Scuola di lettura e scrittura creativa, un percorso didattico aperto anche agli studenti e superiori in una città che vanta il premio Nobel per la letteratura grazie a lei e dai scrittori come Salvatore Sata.